ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di piazza rabazza un gioco da tavolo di wide hoffman e jens petter schliman illustrato da dennis lohausen e pubblicato dalla zoc misuriamo subito la scatola sembra quadrata sono 29 centimetri e 7 per altrettanti è una profondità di 7 centimetri mi torna comoda perché qui trovo subito le classiche icone di giochi da tavolo abbiamo sei più l'età indicata due quattro i giocatori al tavolo mezz'oretta la durata attesa su questo lato vediamo che è un'edizione multilingua tedesca inglese francese e per fortuna anche l'italiano così è come si prepara si presenta il gioco sul tavolo c'è una cittadina con delle mura in cartone al centro troverso c'è un pizzaiolo che impastando la pizza la fa vibrare il vostro compito con una paletta è portare dentro il ragazzo delle consegne e far arrivare le pizze al cliente giusto vediamo cosa dice il testo italiano quando pino il pizzaiolo prepara l'impasto della pizza tutti i muri della città si mettono a traballare intanto il suo corriere luigi sfreccia con la motoretta attraverso i vicoli oscillanti attenzione al muro poco importa quello mi può schivare forza tutta la città sta aspettando la pizza e chi è stufo di aspettare opla ne rubera una al volo dal vassoio di luigi ed è così che le pizze di pino mettono le ali sarà a voi farle atterrare tutte al posto giusto ce la farete cosa troveremo dentro 10 pareti 4 piedi con protezioni 48 carte abitanti un corriere della pizza un'impugnatura le quattro pizze sono gettono in metallo poi il banco della pizza il pizzaiolo con la carica molla un foglio di adesivi e il regolamento bene togliamo il cellophane e andiamo a vedere questa meraviglia della tecnica come funziona ok allora questa dovrebbe essere la paletta con cui far entrare il corriere in città poi qui abbiamo il regolamento che ci spiega come montare il pizzaiolo questa è la parte tedesca l'italiano sarà in fondo immagino eccolo che ci dice come montare il pizzaiolo come montare lo scooter la motoretta come montare la città dopodiché ci sono alcune gioco principianti oppure come è stato pensato originalmente cosa bisogna fare come funziona l'uso delle carte il proprio turno come corriere quando finisce come si vince qui abbiamo una fusta il foglio di adesivi ok questo immagino sia il tavolo in cui il pizzaiolo sta impastando questo è il corriere e qui gli adesivi per i gettoni di metallo della pizza qui c'è una fustella ok ai clienti hanno addirittura il loro nome luna ignara che nome è ignara enrica francesca donata vincento qua insomma il traduttore forse forse si è fatto un po prendere la mano rivana vabbè sembra un po di cose strane ma insomma queste servono tutto sommato a beccare il posto dove portare le pizze vediamo su questo lato sono gli stessi nomi si sono gli stessi vedo anche qui vincento e ignara questo è il meccanismo che fa vibrare tutto e poi cercheremo di metterlo in funzione di farvi vedere come fa questo probabilmente il piano nel piano del pizzaiolo ok ottime premesse qui abbiamo lo scooter no questo è il pizzaiolo ok qui è no questo è lo scooter perché questa qui è la parte che va fissata alla paletta in questo modo ok quindi questo qui ci sarà lo scooter che porta le pizze da fare entrare in città e questo poi l'antecate gli adesivi messe le pizze qua sopra e con questo lo si infila tra le mura cittadine qui abbiamo un cartoccio forse sono i gettoni della pizza ok allora qua ci sono effettivamente i quattro oggettoni metallici su cui mettere gli adesivi della pizza e questi sono i quattro piedini immagino della della città qui c'è una specie di ok sono i quattro feltrini da mettere qua sotto quindi attendere se andranno attaccati il resto potrà tornare qua dentro qui che cosa abbiamo qua abbiamo le mura cittadine togliamo anche questo che tanto non credo che dopo lo rimpacchetterò in questa maniera ok queste sono le mura cittadine immagino che siano tutte diverse da loro tra loro e seguendo le indicazioni del del regolamento verrà composta la città io adesso le faccio vedere uno a uno per quanto possa essere utile o inutile questa cosa dopo di che mi prendo una pausa cerco di montare tutto e di farvi vedere se effettivamente sto pizzaiolo fa vibrare tutta la città se funziona come funziona e quanto è difficile infilarci dentro il ragazzo delle consegne e infine questa che non ha clienti quindi forse sarà un muro esterno bene a tra poco dunque con un po di lavori io sono riuscito a montare tutto la città di cartone il pizzaiolo che impasta il ragazzo delle consegne sulla paletta ora ho capito anche perché le pizze sono su dei dischetti metallici perché dentro le pareti della città sono annegati dei magneti che in pratica rappresentano i furbacchioni ladri che cercano di prendermi la pizza dal vassoio io avrò un obiettivo in questo caso diciamo che voglio consegnare la pizza a Luca Luca abita qui anche se non lo vedete c'è lo stesso disegno raffigurato lì io dovrò attraversare la città che trema e consegnargli la pizza senza che gli altri me la rubano carichiamo il meccanismo del pizzaiolo e vediamo quanto sconqua supporta ah però bene entriamo via 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 ecco ho trovato un ladro il ladro come vedete si è preso la pizza e se l'ha appiccicata la parete se fossi stato abbastanza bravo dovrei essere passato di qua per consegnarla a Luca ecco vedete anche Luca se l'è presa bene gioco si preannuncia molto divertente non vedo l'ora di provarlo per poi recensirlo sulla rubrica non solo grandi io intanto vi saluto vi ricordo che da questa parte potete esprimere apprezzamento per quello che avete visto da quest'altra potete accendere la campanellina per rimanere sempre informati sulle nostre prossime uscite grazie ancora per la visione